ciao benvenuta in questo nuovo video in cui ti mostro come ho decorato il mio bullet journal per il mese di febbraio come tema ho scelto quello delle rose perché mi sembrava più adatto per rappresentare il mese devo dire che è stato abbastanza semplice da fare perché comunque non è complicato disegnare le rose come vi mostro nel video è abbastanza semplice il colore predominante è il rosso ma ho usato anche un po di rosa l'effetto finale devo dire che mi piace tantissimo ovviamente spero di ispirarvi se vi va fatemi sapere quale decorazione avete fatto sul vostro bullet per il mese di febbraio adesso io vi lascio alla visione del video con un bel sottofondo musicale così insomma potete apprezzare tutte le varie decorazioni spero anche rilassandovi un po io spero che questo video vi piaccia se è così mi raccomando lasciatemi un bel like per farmelo sapere scrivetemi giù nei commenti cosa ne pensate io vi mando un enorme bacio vi auguro una buona giornata e se vi va ci vediamo in un prossimo video ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.